buonasera a tutti eccoci anche oggi martedì 8 dicembre giornata di festa per il quinto fungo finora abbiamo visto diciamo quelli più conosciuti utilizzati che sono il cordyceps e reishi la auricularia e la garicus ma merita molta attenzione anche l'ericium il fungo che tratteremo oggi in particolar modo questo fungo è diciamo miracoloso per quanto riguarda la ricostruzione della mucosa dello stomaco e per il sistema nervoso in generale noi come naturopati abbiamo trattato diverse persone che avevano dei problemi di riflusso gastroesofageo abbastanza pesanti cioè che si trascinavano da anni e che con l'ericium associato al cordyceps in questo caso perché aiuta nella ricostruzione della mucosa hanno risolto completamente il loro reflusso naturalmente in alcuni casi essendo un reflusso che si protraeva da anni ci sono voluti c'è voluto qualche mese prima che la funzionalità dello stomaco riprendesse appieno però il risultato è arrivato e costante nel tempo bisogna avere solo la costanza di prenderlo per un certo periodo come abbiamo detto l'ericium è utilissimo in tutte le patologie che riguardano lo stomaco infatti aiuta in caso di gastrite in caso di come abbiamo detto reflusso gastroesofageo in caso di elicobatter filori che è un altro di quei disturbi che diciamo riguarda molta gente che soffre di acidità di stomaco perché va a ripristinare la corretta produzione di muco che è alla base di una buona digestione chiaramente poi ripristinandosi il giusto livello di acidità non si soffre più di gonfiori di digestione lenta di eruttazioni continue e quindi questo problema si risolve un'altra importantissima funzione del dell'ericium anche in questo caso ottimale se associato ad altri funghi come reishi e cordiceps è quello di lavorare molto sulla parte psichica quindi di donare serenità di ripristinare l'equilibrio a livello psichico quindi in caso di ansia in caso di situazioni di anche una lieve depressione in questo caso l'ericium può far qualcosa per aiutare la persona a rasserenarsi a livello mentale è utile anche per quanto riguarda le malattie degenerative quindi il morbo di alzheimer per aiutare in caso di morbo di parkinson anche nel caso di sclerosi multipla perché aiuta la sintesi della mielina che viene compromessa nel caso di sclerosi multipla e poi in tutto quello che riguarda ansia insomma lievi depressioni e fa sì che appunto si ripristini un buon livello di un buon equilibrio psichico l'ericium merita molta attenzione proprio per queste due caratteristiche che non sono sicuramente di secondo non sono in secondo piano è molto utile anche per quanto riguarda le difese immunitarie perché come tutti i funghi alcune volte magari non lo diciamo ma chi in maniera più accentuata chi meno anche l'ericium aumenta le difese immunitarie non è la sua funzione elettiva come poteva essere per la garicus ma è sicuramente un effetto un beneficio secondario quindi ricordatevi l'ericium se avete problemi di reflusso gastroesofageo fondamentalmente problemi di gastrite e tutti i problemi legati allo stomaco che vi impediscono di stare bene anche in caso di ernia iatale grazie dell'attenzione ci vediamo la prossima settimana per il prossimo fungo buona serata ciao